... Risate ma anche numerosi spunti di riflessione sull'attuale problema della precarietà del lavoro. Tutto questo lo ritroviamo nel nuovo spettacolo di Enzo Ferrara L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, proposto dal gruppo di cabarei Dolce e Gabbati alla sala De Curtis di Catania. Sulla scena Enrico Manna, Laura De Palma con getto venti e anni impegnoso accompagnati al piano da Franco Pennisi divertono e fanno riflettere il pubblico sul lavoro precario collegando, grazie alla rielaborazione musicale di Laura De Palma argomenti quali l'amore, i call center, i focosi gigolò i show televisivi, l'arrivo della morte. Tra canzoni, sketch e travestimenti i quattro cabarettisti regalano una serata scacciapensieri affrontando lo scottante problema legato al mondo del lavoro e alla sua precarietà coniugando così, secondo la tradizione del gruppo, il divertimento alla riflessione. Alla fine arrivano gli applausi soddisfatti del pubblico in sala per uno spettacolo che, come sottolinea Enrico Manna, componente dei Dolce e Gabbati è stato concepito nella ferma consapevolezza che oggi più che in passato tutto dall'amore alla morte è tristemente provvisorio.